Nuova sfida, suona una strada. Ok. Non potete capire quanto tempo io abbia perso dietro questa sfida. Non scherzo, è un mese e mezzo che lavoro a questa sfida. Quindi ho provato a batterci sopra, a strofinare, a far fischiare le gomme della macchina, però non mi convinceva. Ma la parola rinunciare non è nel mio vocabolario. Quindi ho preso la macchina, ci ho messo i bagagli e sono andato in Ungheria, in particolare più o meno qui. E in Ungheria, signore e signori, ho suonato un'autostrada. Alza il volume un pochettino. Che figata! Rifacciamolo, rifacciamolo!